Perè, 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 è tornato Raft! Ma davvero? Sì, l'hanno fatto una nuova versione tutta pixelosa e c'è di tutta sia il maschio che la femmina ed è fantastico e c'è pure Pasquale, perè! L'ho visto, no! Perè, 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 è nato il bambino! Oh mio Dio, avevo ragione! Cos'hai fatto? Oh mio Dio, ogni volta che peschi cinque pesci nasce un bambino. Lo so. Quindi è un pesce. Lo so, è discutibile. Ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono te, perché se giochiamo a Lastwood Ovvero, il nuovo Raft Ebbene, sì, è molto, molto simile a Raft però, secondo me, molto, molto meglio Hanno fatto davvero un bel lavoro con questo gioco e siamo curiosissimi di provarlo insieme a voi Esattamente, Raft non l'avevamo più portato perché gli aggiornamenti avevano smesso di esserci però hanno fatto un gioco in soltanto 48 ore perché esiste una competizione dove si creano videogiochi in 48 ore che è similissimo a Raft ma con delle cose molto simpatiche e con una grafica, secondo me, carinissima Allora, si parte sopra delle zatte per fare come puoi vedere Quando noi andiamo a tagliare un albero Ok Ok, riceviamo, se ricordo bene, 80 di legna Esatto E tre limoni Credo siano limoni Non ho mai ben capito Facciamo finta che sia un'arancia Ha un po' più senso Noi mettiamo un nuovo pezzo di piattaforma Costa 20 di legna Mettiamo due nuovi alberi 20 l'uno Oh, ma che carini Mi stai seguendo? Sì E stiamo lavorando Adesso noi dobbiamo aspettare che crescano questi due nuovi alberi Ok, nel mentre creiamo già una nuova piattaforma per un eventuale terzo albero Cosa dobbiamo fare? Con la legna che prendiamo da qua creiamo la canna da pesca Con la canna da pesca mettiamo uno a prendere i pesci Ok E i pesci li dobbiamo cucinare nel cane fire per far ritornare i cuoricini perché altrimenti loro muoiono di fame E ho notato che infatti poi si stanno stancando tantissimo nel piantare gli alberi quindi stanno calando i loro cuoricini Esattamente Guarda, adesso abbiamo 160 di legna quindi noi ad esempio qua possiamo metterci la canna da pesca Ok Qua mettiamo un nuovo blocco dove metteremo il cane fire mentre si diventa anche notte Cioè diventa anche notte Due nuovi alberi e ci dobbiamo muovere tantissimo Ma stai velocissimo qua stai facendo le cose super Perché Ferè stiamo già per morire finiscono questi due cuori e moriamo Oh mio Dio È un gioco molto complicato È una sorta di gioco arcade Ok Quanto riesce a sopravvivere e quindi bisogna un po' sbrigarsi Ok, metti il cane fire qua Dai, ti prego Sì, guarda Pasquale ci ha portato via un pezzo di zattera Ma dai, di già Di già Anche qua si impappano la la parte della zattera Dai, veloce Siamo morti Grazie per aver giocato Prego Molto, molto simpatico Grazie per averci fatto morire Però tu non mi hai detto che era così difficile Secondo me è tutta questione di ingranare Ferè Se riusciamo a superare l'inizio ce la facciamo Io mi sarei già papata Pasquale Allora Via, 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 via Ragioniamo, ragioniamo Dobbiamo fare la combinazione migliore per sopravvivere Assolutamente Secondo me Ta Ta e ta Vediamo così Tanto alla fine non devono stare comodi loro Non c'è frega nulla Se sono comodi Devono soltanto sopravvivere E un triplo albero vuol dire 80 di legno in più E quindi teoricamente velociziamo tutto Ok Allarghiamo di due la piattaforma Ta Ta Mettiamo la canna da pesca qui Ok Mettiamo subito altri Facciamo tre alberi Velocissimi Dobbiamo essere Su, su, su Ok Secondo me stiamo andando già molto meglio Ferè cos'è successo lì? Cos'è successo di preciso? Non lo so E' un bug visivo? Ok 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 Vabbè Facciamo finta di nulla E' fastidiosissimo Ma facciamo finta di nulla Ok Quasi cresciuto l'albero Appena cresce quest'albero Ah no Non ho messo uno a pescare Dannazione Ma no Stef Non mi puoi sbagliare Scusami Allora Metto lì a prendere un albero Teoricamente abbiamo Un cuoricino di vantaggio Rispetto a prima Quello che prendiamo dagli alberi Non lo possiamo mangiare Ne abbiamo 15 Non si può mangiare quello? Guardalo No Pasquale No Ma dai Almeno la piattaforma Buggata Prenditi Non quella che funziona Non quella buona Scusami Ce l'ho fatta Ok E tu vai di nuovo a pescare Perfetto Però non sto capendo Ma E mangia L'hai ucciso? E' morto l'altro Ma no Vabbè continuiamo da soli qui E poi lui deve continuare a venire così Tutto al tempo Ci farà letteralmente impazzire Pasquale qua Guarda Guarda cosa ci ha lasciato Un albero Un campfire E un pezzetto di legno Forse ho sbagliato una cosa Forse una cosa non l'avevo capita bene Fere Mi sa che comunque Noi vedi otteniamo 3 di cibo anche dagli alberi E te l'ho detto E teoricamente in questo modo Noi possiamo creare subito un campfire Saltando la questione canna da pesca Per iniziare a farli mangiare un po' Dobbiamo essere perfetti Fere Parola d'ordine Perfezione Vai 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 Allora prendiamo subito uno Prendiamo subito l'altro E a questo punto Io ti direi di fare Ta Ok Poi Ta lui Ok mi piace Dopodichè Tipo ta Ta Ok Allora cerca di proteggere anche il campfire Ta Che arrivi lo scuolo puoi appapparsi Esatto 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 E quello che voglio fare Ok io ho messo Lui teoricamente Vanno a mangiare da soli Mi sa Sai Sì Vero Sì sì Quando hanno fame Mi sa che fanno tutto da soli Il che è buonissimo Vi prego di andare a prendere Questo bellissimo albero Continuate a mangiare Quando ne avete bisogno Mi raccomando Ma stiamo sicuri Gli stanno salendo i cuoricini Sì 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 funziona Sì funziona Perfetto 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 Pizzi di legno Quindi vuoti Le cose importanti Perché lui va a pappare Proprio quelle È furbo Pasquale Dovremmo aver capito Che lui è molto furbo Mi sta facendo arrabbiare Eh sì anche a me Sempre a mettere nervoso Esatto Abbiamo rinunciato Un'altra partita E facendo subito Due campfire Siamo riusciti A farli resistere Entrambi Sì perché Ognuno va a mangiare nel suo Non si scontrano più Esatto E non rischiamo di farne morire Uno dei due in questo modo Esatto Va benissimo È stato difficilissimo Partire bene la partita Però sta ripagando Benissimo Dato che finalmente Riusciamo a tenerli in compagnia Guardate Vanno a mangiare da soli Sono autosufficienti Intelligentissimi Da sola Poverina mia Era una tristezza incredibile Era tristissimo Sono più carini assieme E poi non so se sono dei naufraghi O dei figlioletti Quelli che possono arrivare Eh anche io so che possono arrivare Però boh Ci dobbiamo togliere questo dubbio Fere È importante togliersi questo dubbio Allora mettiamo una piattaforma qua Per difendere anche questo albero Che ogni volta noi andiamo A piantare Ripiantiamo un alberello qua Ne piantiamo uno qui E facciamo anche una bella piattaforma Ovviamente Esatto così Nel mentre andate a mangiare Gestitevi bene Mi raccomando Sempre più importante il cibo Vi voglio tenere tutti vivi Eh avete capito Quindi fate un buon lavoro Ok Allora Prendete albero E albero Forza 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 Perfetto Lui va subito a mangiare Va bene stavolta Stiamo riuscendo a ingranare meglio Abbiamo capito bene le meccaniche di questo gioco Stiamo iniziando È impossibile Ad accumulare un pochettino La legna E se ci riusciamo Iniziamo a creare una piattaforma Gigante E quindi Pasqualo ci dà molto meno fastidio E possiamo iniziare a pensare a creare un vero e proprio impero Quindi questa volta stiamo facendo davvero una bella partita Comunque Sondaggino ragazzi Per chiedervi se volete rivedere il gioco Quando lo aggiorneranno Perché per adesso praticamente è questo A parte il bambino slash naufrago Che ancora non abbiamo capito come far arrivare A parte quello Prevalentemente il gioco è questo Quindi per adesso secondo me non avrebbe senso un altro video Però in futuro quando aggiungono qualcosa Secondo me potrebbe essere molto divertente Quindi sondaggino e commenti per farci sapere questa cosa E nel mentre vediamo se riusciamo a far sbucare il bimbetto Per diciamo Io voglio qualunque cosa sia lo voglio E se è un animale è ancora meglio No no io ho visto che era un bambino Fede Non so semplicemente se arriva dall'acqua O se nasce hai capito Questo è il mio dubbio Però era un bambino Nasce e arriva dall'acqua allo stesso Non è un gatto ok Peccato peccato Mi spiace ma non è un gatto Ci tenevo Fede 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 è nato il bambino Oh mio dio avevo ragione Cos'hai fatto? Oh mio dio Ogni volta che peschi 5 pesci Nasce un bambino Lo so Quindi è un pesce Lo so è discutibile È discutibile questa cosa Però Nasce un bambino Eh facciuccio Fede Va bene così Va benissimo così Abbiamo Il nostro primo bambino Comunque tu mi hai detto E possiamo creare un impero Fede Tu mi hai detto No ai gatti Ma sembra più un gattino Che un bambino Oltretutto è arrivato con 5 pesci E ai gatti che piacciono i pesci Ma dai Ma perché c'hai bucato là Pasquale Pasquale stava salutando il bambino Secondo me Non ti sporgere tu Che poi ti mangia Pasquale Vabbè Cioè dai Guarda come corre Deve vivere libero Nessuno gli deve dire come si vive a questo povero bambino Dovrà capire da solo E spero che cresca presto Perché per adesso è totalmente inutile Fede Stef ci facciamo un esercito Lo so Lo so Un esercito gigante È una figata Contro Pasquale Allora Io cambio tutto Anche senza giornamento Secondo me Ci potrebbe stare un secondo video Dove creiamo un esercito Però fateci sapere voi nei commenti E decideremo in base a cosa preferite voi Pasquale devi smetterlo immediatamente Che qui Sembra rovinare la vacanza di famiglia lui Esatto Esatto Allora Aspetta un attimino Sta diventando difficile gestire tutto Ho notato Ho notato Ma crescerà poi E ci sarà utile Beh certo Certo Lo spero A che serve che va così in giro Poveretto I pesci per sua mare sono inutili Ti tocca continuare a tagliare gli alberi Questa cosa non me la sarei mai E poi mai aspettata Davvero Davvero Interessante Ok sto allargando un po' la piattaforma Come puoi vedere Guarda che bellina Secondo me È molto più carina Adesso Fatevi uno spuntino entrambi Che sinceramente qua Bisogna sempre Tenersi Diciamo pieni Con lo stomaco E magari fate crescere questo bambino Che così ci dà una mano Invece che gironzolare e basta Bene ma non è che magari quando È nato con cinque pesci Magari se arriviamo a dieci Cresce O può essere Cioè gestrano che nasca con cinque pesci Esatto Con dieci cresce Nel momento in cui c'è la logica dei pesci Noi seguiamo la logica dei pesci Che si guarda all'oceano Quando non so che dovrà lavorare Per tutta la sua vita Sinceramente Anche così io sono felice Perché almeno mette allegria Ok Se l'ho detto è uguale a un gattino Tu mi hai detto che non avrei potuto avere un gattino Ma sembra un gattino in questo momento Si muove anche come un gattino Non troppo Aspetta Aspetta Decimo pesce tra pochissimo Decimo pesce tra pochissimo No Niente E non è neanche nato un altro però Niente è nato un altro Ok Quindi Non lo so A che serve arrivare a dieci Forse vuole due canne da Aspetta un attimo Fere Aspetta un attimo Che dici Sì Se noi mettiamo la seconda canna da pesca Il limite di cinque Va a dieci No No Peccato Io ci ho provato Sto teorizzando Perché il gioco non spiega nulla E bisogna capire tutto da soli E che è una cosa che trovo molto simpatica Comunque Continuate a mangiare un altro po' Ci riempiamo totalmente lo stomaco E rimetto uno dei due A pescare per un po' di tempo Quindi proprio li riempio Totalmente a livello di cuoricini Ok Tu vai a pescare Ok Siamo a dodici Vediamo se succede qualcosa Andando a quindici Così Ci finiamo di togliere i dubbi sui pesci Sì Certo Rimaniamo qui a pescare Va benissimo Siamo arrivati anche a quindici pesci Non sono nati altri bambini Quindi dobbiamo capire un po' Come funziona questa cosa In ogni caso Io direi che ci possiamo fermare così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Nel caso tanti likes Commenti Sondaggio Farci sapere se vorreste vedere Un altro episodio Noi contatteremo lo sviluppatore Per capire se deve fare Degli aggiornamenti Esatto E nel caso Lo riporteremo più che volentieri Guardate che se ci esiste tutto Sciateci un bel like E se la prima volta che avete visto Lo stesso video potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.